Dove lavoravi? Allora io lavoravo lo Scripps Research a San Diego in California Che cos'è? Che è un istituto di ricerca medica Quindi io facevo uno tra i migliori negli Stati Uniti Dopo il dottorato di ricerca che ho fatto a Napoli Tra Napoli e Londra mi sono poi trasferito a San Diego Sono stato lì per quattro anni e ho fatto una ricerca sulla coagulazione proprio del sangue Però poi successivamente anche la pandemia ha fatto sì Che io avessi questa mancanza spasmodica al profumo del mio paese E quindi ho detto no basta me ne torno E sei tornato a Torrursa? Sì perché credo che il Cilento sia un posto che ti attrae E credo che debba essere valorizzato Non mi sentivo che stavo facendo qualcosa per il mio paese stando lì E quindi ho deciso di ritornare Sei tornato a Torrursa e a quando? Sono tornato dicembre 2022 E da allora cosa fai? Da allora faccio il professore di matematica e scienza alle scuole medie E hai pentito della scelta del ritorno alle radici? No, nessun pentimento Tu che hai vissuto questa esperienza cosa ti va di dire ai giovani che invece stanno pensando di andare via? Di credere, di andare via Possono andare via i giovani I giovani devono andare via Devono conoscere altri posti Perché soltanto conoscendo altri posti Altre culture Si può ritornare e si può in qualche modo aiutare il territorio Non mi sentivo che non si può in qualche modo aiutare i giovani che non si può in qualche modo aiutare il territorio